Innanzitutto, credo che ci siano le istituzioni competenti che si debbano occupare di questo. Spesso si punta il dito su un qualcosa o quell'altro, ma io credo che sia una questione, da uomo dico, culturale. È assurdo, oggi come oggi, parlare di antisemitismo, magari con qualcuno che non ha vissuto in quel periodo determinate situazioni. Io oggi posso dire, come uomo, come personalmente, soprattutto di Francesco, che mi sento anche io Anna Frank. Questa è la mia risposta a tutto quello che è accaduto in questi giorni. Ritengo che sia un'assurdità. Come società, eppure gli stessi tifosi nella storia, hanno dimostrato di mettere in atto sempre iniziative contro il razzismo. Quindi anche questa volta penso che la società si sia mossa. Poi per quanto riguarda l'episodio di domenica, penso che sia riconducibile a pochissime mele marce. Però è giusto che venga fermamente condannato.